Il nostro applauso, ecco qui, abbiamo questa manifestazione, questo corteo nella nostra manifestazione qui stasera, qui va anche il nostro grazie. Però continuavo a dire che il giorno 9 in Piazza Oretice abbiamo avuto la proiezione di un film per bambini, Peppa Pig, e poi Sole a Catinelle, un film che era di Chieco Zalone, la regia e anche per quanto riguarda era il protagonista. Giorno 10 abbiamo avuto poi l'apertura dei festeggiamenti davanti alla chiesa di San Giovanni Battista e pensate, ecco vedete qui c'è tanto...